ragazze oggi ho comprato quattro cose vi voglio fare vedere un poco appunto le cosine che ho comprato allora vi parlo oggi del lidl e poi vi parlo di un centro commerciale che da noi che è sorto da poco che si chiama l'arcipelago ecco questo è il sacchetto l'arcipelago e all'interno ci sono i magazzini smart scusate che mi è caduta una cosa allora in questo grande magazzino dove c'è arredamento detersivi insomma praticamente c'è di tutto mobili su pellettili di tutto ho preso questo telo doccia perché appunto vi ho parlato che voglio fare che sto facendo questo questo restyling queste nuove cose che ho messo appunto per l'estate gli asciugamani piccoli ce li ho celesti nuovi e ho preso questo che invece il telo doccia diciamo niente di che 400 grammi e non è neanche enorme però è costato mi pare 5 90 quindi ho preso questo in questo negozio poi ho preso ragazze guardate la tovaglietta asciugacapelli praticamente credo che sia la tovaglietta quella che diventa tipo turbante comunque un euro e 99 questa poi ho preso i fazzolettini perché io non ne posso fare a meno questi credo 99 centesimi poi ho preso il mio amato lenor quello con la profumazione con il nome capri che è buonissimo l'ho finito proprio stamattina è favoloso e poi mi sono presa la mia lacca la lacca malizia che uso da una vita e che non mi deve togliere nessuno quindi questo poi per ultimo ho preso il general questo qua per per la lavatrice che devo dire mi trovo bene e quindi questo è il negozio l'arcipelago questo centro commerciale che vende di tutto andiamo all'idl allora lì dell'ho preso questa carta igienica fiore alice questi sono quattro rotoli se non ricordo male un euro e 49 poi ho preso lo straccio il mocio che mi trovo benissimo costa solamente un euro e lo cambio spesso vedete è questo con con questa come dire guarda appunto si avvita il mocio ed è così poi ho preso anzi ho ripreso queste gallette perché mi sono piaciute molto sono gallette bio all'un prezzo 69 centesimi proprio pochissimo poi ho preso la mia amata maschera quella sienne alla cheratina che questa è favolosa 1 49 sempre questa poi abbiamo preso i plum cake questi qua nastrecce plum cake con gocce di cioccolato che sono ottimi credo 99 centesimi poi abbiamo preso questa busta di bustine gourmet per per maia 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 sta diventando difficile ci fa spendere un mare di soldi e molto spesso mi fa buttare le lattine intere quindi abbiamo visto queste e queste credo che siano costate 1 euro e 30 ci sono all'interno qualcosa come 5 buste quindi proviamo queste se le piacciono e poi ho preso però non ricordo il prezzo finalmente i cornetti quelli a forma di rosa vi ricordate che li volevo prendere domenica per la festa della mamma e poi non ho potuto prenderli allora all'interno ce ne quattro non mi ricordo assolutamente quanto sono costati e oggi uno l'ho assaggiato vi devo dire che sono buonissimi super buoni quindi c'è tutta questa rosa al sapore di fragola e poi c'è un buonissimo cono dove all'interno c'è un po di cioccolata quindi ottimi stasera invece ritirandoci abbiamo preso queste pizze questa confezione di pizze margherita molto semplici proprio le basiche quelle pizze margherita è una scatola dove ce n'è tre e sono costate 3 euro e 20 queste le abbiamo comprato in un negozio che ho vicino a casa mia è un negozio di surgelati ok quindi vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso insomma ho preso un bel po di cosine in svariati negozi ok ragazzi allora io vi saluto noi ci vediamo sempre al mattino su questi schermi niente domani facciamo quattro chiacchiere pure vis a vis il mio compleanno si avvicina sempre di più sono contenta allora una di voi mi ha detto marianna per il tuo compleanno fatti coccolare poi fai una cosa vattene in un centro commerciale e ti compri tutto quello che vuoi devo dire che questo è il suggerimento che mi piace di più vediamo di metterlo in atto allora ragazze un bacione e a prestissimo allora ragazze un bacione e a presto